attenzione 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 colui che disse futuro radioso all'inter colui che disse lo stadio non ci sono problemi in caso ce lo facciamo da soli poi bisognava chiedergli ad Antonello con quali soldi signor Antonello futuro radioso con chi signor Antonello arriva la notizia che braccio destro di Zhang al Hilal è vicino a nominare Alessandro Antonello amministratore delegato nel club quindi è pronto a spiccare il volo anche lui verso la Arabia Saudita ma come mai Antonello va via come mai Antonello va via perché Antonello va via perché in qualsiasi nuova proprietà quando sta per subentrare una nuova proprietà le prime figure che saltano sono proprio quelle come Antonello perché perché la proprietà entrante preferisce mettere dei propri uomini di fiducia nel settore finance diciamo così quindi Antonello poi tra l'altro essendo un uomo di Zhang è il primo a saltare io l'ho detto tantissime volte che il primo a saltare sarebbe stato Antonello quindi questo dopo il discorso degli 86 milioni di Zhang che li ha convertiti in capitale questo è un altro segnale importantissimo fondamentale pre cessione anche perché Antonello comunque era una figura importante per l'Inter ma l'amministratore delegato della parte economica è il primo a saltare perché la parte entrante mettere a uno di eh fiducia quindi anche Antonello ci saluta va in Arabia Saudita ciao Antonello peccato non ci hai spiegato chi ci dà questo futuro radioso non ci hai spiegato come facevamo a farci uno stadio di proprietà da soli ma magari te lo chiederanno fra un po' per quello che riguarda la Salernitana ragazzi io lo ripeto è una squadra che comunque ti viene viene ad attaccare la palla alta una squadra che fa pressing una squadra gioca bene a calcio non ha punti di riferimento gioca senza un regista i registi li fa il regista nella Salernitana viene fatto da tutti i calciatori di movimento costruiscono da dietro a tre quindi è una squadra gioca di A a quanto pare gioca di A Cabral dietro è una squadra che corre eh una squadra insomma tosta che non ha tantissimi punti ha bisogno di punti e quindi troveremo undici giocatori affamati nonostante questo nonostante diciamo il fatto che la finale di Champions League abbia messo tanta polvere sotto il tappeto a mio avviso l'Inter ha una squadra di tutto rispetto a una squadra per competere in Italia ai massimi livelli viene fatto turnover non capisco però perché non viene fatto turnover con Acerbi che comunque fai fare turnover a bastoni a 26 anni ma non fai fare turnover ad Acerbi che ora lo sta strizzando con un limone tutte le partite tutte le partite sembra che questo Acerbi sembra che l'Inter proprio non possa fare a meno di Acerbi quindi anche lì potresti giocare a quattro potresti fare altre scelte però si continua con quello schema io spero che eh in Zaghi ovviamente da interista spero la sua testardaggine su questa unica idea tattica spero che comunque gli porti dei frutti anche perché qualcosa di buono ha fatto in Zaghi non è che eh ha distrutto tutto all'Inter quindi eh lui ha questo modulo mentale in testa del tre cinque due e continuerà con questo tre cinque due Turam e Sanchez davanti vediamo Sanchez quanto tiene non ha sicuramente novanta minuti nelle gambe ha tanta tecnica tanta esperienza personalità vediamo come si amalgamano ok Turam e Sanchez davanti è una coppia inedita coppia nuova però anche lì non hai altre scelte lì sono lì sono d'accordo cioè o fai giocare quei due oppure gli attaccanti non ce n'è più porti Sard della primavera della prima squadra quindi vediamo stasera come la va ripeto può giocare Klaassen può giocare potrebbe giocare Sensi anche Sensi Sensi è una risorsa per modo di dire lo adoriamo tutti ma è sempre infortunato Aslani bocciato per l'ennesima volta anche stasera speriamo che comunque l'Inter riesca a fare i tre punti perché ragazzi ad ora c'è da dire non è successo nulla di grave ci sono comunque dei segnali che devi vogliere che comunque sono stati lanciati dei segnali però uscire con un risultato negativo stasera sarebbe insomma incomincierebbe ad essere preoccupante quindi l'Inter soprattutto dal lato dell'atletismo della voglia della grinta deve stare sul pezzo perché Salerno è una partita pericolosa ciao ciao Antonello stami bene divertiti in Arabia Saurita